Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Smantellata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce e dalla Capitaneria di Porto di Taranto, un'articolata catena ecocriminale dedita all'illecito smaltimento di rifiuti pericolosi nel Tarantino. Le attività investigative si sono orientate sui lavori legati alla rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di Levante del Molo San Cataldo e quelli di consolidamento della calata del Porto di Taranto. Le indagini hanno permesso di ipotizzare l'esistenza di un'articolata organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti, composta da tre società che avrebbero smaltito illecitamente oltre 16.000 tonnellate di terre e rocce da scavo, molti dei quali privi delle analisi di caratterizzazione e parti dei quali costituiti da fanghi di dragaggio, illecitamente qualificati quali terre e rocce da scavo, nonché materiali misti di demolizione. Il tutto è stato conferito all'interno di una discarica abusiva di oltre 40.000 m2. Sono otto i soggetti indagati nei confronti dei quali è stato disposto il sequestro preventivo per un ammontare complessivo di 1.200.000 euro. Sono state altresì sequestrate 5 motrici e relativi rimorchi di proprietà della società incaricata del trasporto dei rifiuti dal sito di produzione al luogo di smaltimento illecito. Sottoscritto questa mattina a Roma dal Ministro della Salute Orazio Schillaci l'accordo di programma con la Regione Puglia che prevede il completamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto e la realizzazione del nuovo ospedale del Nord Barese. Alla firma erano presenti il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e una rappresentanza di parlamentari pugliesi. Questa mattina il Ministro Schillaci firma un accordo con il quale vengono dati quasi 300 milioni di euro per il San Cataldo e per il cosiddetto ospedale del Nord Barese. Un segno tangibile della vicinanza del Governo Meloni e del Ministro Schillaci alla Puglia e alla sanità pubblica pugliese. Noi ci auguriamo che la Presidenza della Regione, il Presidente Emiliano, spenda al più presto questi soldi, quindi cantirizzi e porti a termine le opere perché la Puglia ha bisogno di sanità. Non vorremmo che ci fosse da parte della Regione un'attitudine ad isolarsi e a creare polemiche. Noi polemiche non ne vogliamo creare. Noi abbiamo come obiettivo soltanto la salute dei cittadini pugliesi. Questa mattina è tangibile, abbiamo erogato con questo accordo di programma quasi 300 milioni di euro a testimonianza di un'attenzione del nostro Governo nei confronti della Puglia. Questa notizia viene dopo l'altra notizia che in parallelo il Presidente del Consiglio Meloni ha scelto la Puglia quale sede del G7, quindi un'attenzione verso la Puglia che penso verrà ricambiata anche dai vertici istituzionali pugliesi, non con polemiche ma con collaborazione. La sottoscrizione odierna consente di sbloccare i fondi necessari all'ultimazione alla fornitura di arredi e attrezzature per il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, per il quale sono stati allocati 105 milioni di euro e alla costruzione del nuovo ospedale del Nord Barese per un finanziamento di 192 milioni e mezzo di euro. Entrambi i finanziamenti sono coperti al 95% da fondi statali, mentre le restanti risorse sono state stanziate dalla regione Puglia. Il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto subentrerà al Santissima Annunziata svolgendo un ruolo strategico nell'ambito della rete ospedaliera pugliese, qual'idea di secondo livello. Il presidio ospedaliero sarà infatti coinvolto nelle maggiori reti tempodipendenti, operando come hub per la rete cardiologica dell'ictus e del trauma. Sono inoltre previste altre discipline di alta qualità, quali la chirurgia vascolare, la neurochirurgia, la chirurgia toracica e la terapia intensiva neonatale. L'intervento di completamento consentirà inoltre di dotare l'ospedale di apparecchiature moderne e innovative. Arrestato dai falchi della squadra mobile un noto pregiudicato tarantino di 40 anni senza fissa dimora che da poco aveva ripreso a spacciare cocaina. Nel corso dei servizi di appostamento i poliziotti avevano notato il quarantenne entrare spesso all'interno di uno stabile situato in via Crispi. Il presunto spacciatore è stato così sorpreso tra il secondo e il terzo piano di quello stabile in possesso di sei dosi di cocaina nascoste negli indumenti intimi e circa 200 euro in banconote e monete, probabile provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato pertanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed accompagnato presso la locale casa circondariale. Stretta delle fiamme gialle del comando provinciale di Taranto sul lavoro sommerso nell'ambito delle attività di controllo economico del territorio i finanzieri hanno individuato in numerosi comuni del Tarantino ben 32 lavoratori in nero. Al momento la Guardia di Finanza sta svolgendo specifici approfondimenti per verificare la regolarità dell'assunzione di ulteriori 62 lavoratori. Le violazioni riscontrate hanno interessato attività commerciali di vario tipo tra cui ristoranti, bar, gelaterie ed imprese edili. Tra i lavoratori nero scoperti figurano anche cinque soggetti risultati componenti di nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza. Immediata in questo caso la segnalazione ai competenti uffici dell'Inps per l'adozione dei provvedimenti di competenza. La Guardia di Finanza ricorda che il lavoro sommerso e l'evasione fiscale costituiscono un grave ostacolo allo sviluppo economico minando il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce più deboli. Questa mattina in Piazza Maria Immacolata Taranto il camper della Polizia di Stato per sensibilizzare l'opinione pubblica in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi. Presente anche il vice capo di gabinetto della questura di Taranto, Ilaria Grippa. Sì, oggi siamo qui per la giornata internazionale dei bambini scomparsi per portare la nostra presenza anche in questo momento e su questo tema così forte e così importante. Noi siamo fortunati nel senso che nel nostro territorio ionico non ci sono denunce attive di bambini scomparsi però questo non significa che la nostra attenzione e quella dei cittadini debba essere meno alta. Parte oggi il Taranto Ecoforum 2023 l'evento che per due giorni porrà il capoluogo ionico al centro del dibattito sulla transizione offrendo un punto di vista privilegiato su biorisanamento, economia del mare, risorsa acqua valorizzazione dei rifiuti, energie rinnovabili e mobilità sostenibile. Il parterre che animerà le tavole rotonde che si terranno il 25 e 26 maggio presso la sede della Camera di Commercio è composto da enti di ricerca, advisor internazionali enti pubblici, start-up innovative oltre che esperti, amministratori e studiosi. Ma assumono un valore importantissimo e sono molto contento che ci sono queste iniziative con partner così importanti perché vanno in linea esattamente con quello che da circa quattro anni sosteniamo attraverso il nostro piano strategico ecosistema e diciamo sono molto contento di quello che sta accadendo negli ultimi settimane perché vedo una grande partecipazione innanzitutto su temi che sono sensibili e molto importanti dal tender lab di ieri in Confindustria a questa iniziativa sull'ecoformo quindi sulla parte ecologica con tanti partner, come dicevo, importanti del territorio e non credo che Taranto sia diventando sempre più la città da seguire da questo punto di vista è chiaro che abbiamo tante criticità c'è ancora tanta strada da fare ma sta cambiando completamente la concezione l'approccio del territorio, degli stakeholder, dei cittadini e di questo insomma dobbiamo essere un po' tutti contenti istituzioni, amministrazioni, media perché probabilmente il cambiamento è davvero in atto ed è quello più difficile perché è un cambiamento di mentalità ed è un cambiamento culturale che è quello più complesso da portare avanti quindi tutti insieme sono convinto che insomma presto usciremo da tutte quelle situazioni critiche che la città ha vissuto negli ultimi 30 anni la strada è quella giusta e i risultati ci stanno dando ragione sotto tanti punti di vista e ripeto la cosa che mi dà più energia e più forza per andare avanti è che finalmente diciamo c'è una questione e una visione di vedute collettiva che è sicuramente l'arma vincente per poter portare a casa il risultato presentato questa mattina presso gli uffici della direzione generale dell'ASL di Taranto il protocollo tra l'azienda sanitaria locale del capoluogo ionico e ARPAL Puglia Taranto finalizzato al collocamento mirato dei disabili Io ci tengo a sottolineare un aspetto che l'ASL sta facendo il proprio dovere nulla da enfatizzare noi come pubblica amministrazione dobbiamo arricchire le nostre strutture con questi ragazzi con queste figure che grazie alla legge 68-99 non sono degli disabili ma sono ragazzi sono ragazze che hanno delle attitudini e quindi in base a quelle che sono le loro attitudini vengono collocate nel posto giusto Beh, noi come collocamento mirato dei disabili ci occuperemo di 35 unità quindi diciamo un numero cospicuo di persone da avviare al lavoro e quindi diciamo quando poi ci sarà la fase dell'avviso pubblico cercheremo di dare il necessario risalto a questa informazione affinché tutti quanti quelli che aspirano possano partecipare L'associazione La città che vogliamo Democrazia Solidale ha organizzato nell'aula magna del Pacinotti un importante incontro dal tema assolutamente attuale ILVA Odissea di uno stabilimento e di un territorio Ben 14 i relatori impegnati nella due giorni tutti i testimonial e osservatori privilegiati dell'Odissea Romagnoli Marzo Pensa La Forgia Corvace De Marzo Assennato Liviano Prechinunno Ingravallo Greco Di Giorgio Bentivogli Nicolais Abbiamo ascoltato l'organizzatore Gianni Liviano e Marco Bentivogli già segretario nazionale della FIM CISL L'obiettivo di incontro di oggi e domani il cui titolo come bene dicevi Odissea di uno stabilimento è quello di provare direi in maniera laica senza avere nessuna verità da proporre ma provando davvero senza nessun dogma senza nessun ansia di prestazione senza nessun proclama da fare ma in maniera seria e responsabile ad ascoltare le voci delle competenze spesso la politica faccio politica quindi voglio dire sto ragionando su una cosa di cui mi sento parte ha la necessità di dover dimostrare qua non c'è da dimostrare nulla c'è da tentare di capire esattamente qual è la prospettiva partendo dalla storia e ascoltando davvero con grande rispetto persone che possono pensare tra loro anche in maniera differente perché la verità è sempre figlia della sintesi del confronto dello sforzo di dialogo tra le parti sì sono tanti anni il stabilimento è stato il terzo siderurgico costruito in Italia è stata una odissea per quello che riguarda le potenzialità di sviluppo le capacità di rendere sostenibile lo stabilimento e ci sono state tante occasioni in cui abbiamo intravisato la possibilità di renderlo compatibile con l'ambiente e la salute delle persone io credo che ancora oggi la sfida della sostenibilità della produzione di acciaio sia ancora in piedi tutti coloro che dicono è sufficiente chiudere tutto e andare via devono spiegare cosa possono fare nell'immediato non offrendo solo sussidi ma dando possibilità e sviluppo e lavoro concreto perché altrimenti dire chiudiamo tutti e andiamo via ha assolutamente poco senso a a a a